Non ho mai ricevuto alcuna regalia da nessuno. Ho già detto che con D'Accomi è capitato di passare qualche giorno di vacanza. Appunto, i rapporti con Pierangelo D'Accomi sono questi. Il giornalista del Corriere fa le vacanze sempre da solo. Ma che sfigato! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Ma che sfigato! Ma che sfigato! Le vacanze da sole ragazzi! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Voi non fate mai i vacanze di gruppo. Quando fate i vacanze di gruppo vi regolate come me, sì o no? Sì o no, sì o no, sì o no? Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Ma che sfigato! Se non mi ho lei, lei non ricorda. Di quando in quanto? Grazie a tutti.